operazione antidroga della polizia di Mazzara del Vallo i nomi dei 19 indagati nel bliz della polizia alla ricerca di Messina Denaro nuovo sbarco fantasma, questa volta all'oasi protetta di Capofeta Mazzara del Vallo muore donna folgorata durante la doccia a Tre Fontane, inutili i soccorsi ben ritrovati con l'informazione di Tele 8 e buon venerdì a tutti apriamo subito il nostro Tg con un'operazione da parte della sezione investigativa del commissariato di pubblica sicurezza di Mazzara del Vallo che nel primo pomeriggio di ieri traeva in arresto un 59enne mazzarese con piccoli precedenti di polizia colto in flagranza di reato per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e furto aggravato di energia elettrica l'arresto si inserisce nell'ambito delle mirate e sempre più serrate attività di polizia diretta alla prevenzione generale e al controllo del territorio nella città di Mazzara del Vallo tese soprattutto a combattere il diffuso fenomeno del consumo tra i giovani di sostanze stupefacenti nel sopralluogo fatto a casa delle 59enne e poliziotti con l'ausilio ai tecnici dell'Enel veniva scoperto anche un allaccio abusivo alla rete elettrica dopo aver operato il sequestro della droga e degli oggetti costituenti corpo del reato il 59enne mazzarese veniva accompagnato negli uffici del commissariato di Mazzara del Vallo e tratto in arresto e come le disposizioni impartite dal pubblico ministero del Tribunale di Marsala il soggetto arrestato e fotosegnalato è stato trasportato presso la propria abitazione dove è posto il regime di arresti domiciliari e ne abbiamo parlato ampiamente nel Tg di ieri oggi i nomi dei 19 indagati nelle blizze della polizia contro i fiancheggiatori di Messina Denaro alle prime luci dell'alba di ieri 130 uomini del servizio centrale operativo di Roma delle squadre mobili di Palermo e Trapani e del reparto prevenzione crimine di Palermo con il supporto di un elicottero del reparto volo di Palermo hanno perquisito edifici e abitazioni di persone legate al boss latitante Matteo Messina Denaro sono state eseguite una serie di perquisizioni a Castelvetrano, Mazzara del Vallo, Partanna, Campobello di Mazzara finalizzate a colpire la rete di fiancheggiatori del latitante e raccogliere ulteriori elementi utili alla sua cattura questi i nomi dei 19 indagati odierni Agate Giovanni, nato a Castelvetrano, 52 anni Amaro Antonino, nato a Castelvetrano, di 44 anni Arimondi Raffaele, di Castelvetrano, 59 anni Asaro Giovanni, nato a Mazzara del Vallo, 63 anni Burzotta Luca, nato a Mazzara del Vallo, 57 anni Cognata Antonio, nato a Campobello di Mazzara Dincerto Adriana, di Castelvetrano, 39 anni Furnari Leonarda, di Castelvetrano Gaiazzo Vito, di Mazzara del Vallo, 64 anni Giglio Leonardo, nato a Vita, di 54 anni Indelicato Vincenzo, di Castelvetrano, 50 anni Ingoglia Antonio, nato a Trapani, 57 anni Lombardo Catia, nato a Castelvetrano, 40 anni Mario Mangiaracina, di Castelvetrano Messina Pietro, nato a Castelvetrano, 64 anni Moceri Andrea, di Campobello di Mazzara, 61 anni Napoli Onofrio, di Partanna, 60 anni Piazza Antonio, di Mazzara del Vallo, 57 anni Risalvato Enrico, di Castelvetrano, 67 anni E' un piccolo numero di clandestini E' sbarcato ieri alle prime luci dell'alba Su territorio italiano Ad essere interessati dello sbarco Questa volta la costa mazzarese Più specificatamente l'oasi protetta di Capofeto Questo è uno dei tanti sbarchi Che avvengono nelle nostre coste Che la maggior parte delle volte Però non viene documentato In quanto non rilevato dalle autorità Sembra una nuova strategia Quella che vengono utilizzate dagli scafisti Per trasportare esseri umani Dall'Africa in Italia Grazie a queste condizioni meteorologiche Favorevoli di questi giorni Ovviamente si sosseguono incontrollati In Italia l'arrivo di clandestini Del sparuto numero di ieri Solo tre immigrati sono stati rintracciati Gli altri sono al momento irreveribili Dei tre, due minorenni Sono stati bloccati dalla polizia Mentre un maggiorenne dalle fiamme gialle E lieve scossa di terremoto Di magnitudo 3.4 È stata registrata All'una di questa notte A largo dell'isola siciliana Di Pantelleria Secondo i rilevamenti Dell'Istituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia Il sisma ha avuto Un ipocentro a 10 km di profondità E un epicentro Oltre 20 km Dalla terraferma Non si segnalano per fortuna Danni a persone o cose Altra scossa di lieve entità È stata invece registrata Nel tirreno meridionale Tra la Sicilia e la Calabria A largo di Stromboli E ad Erice In fiamme Tantissimi Lotti di terreno Soltanto ieri Vigili del Fuoco Hanno domato 5 incendi In fiamme 5 roghi Hanno aggredito Ieri mattino La montagna E soltanto il tempestivo Intervento Dei vigili del Fuoco Uomini della Protezione Civile E Forestali Ha scongiurato Conseguenze più gravi Tre focolai Sono divampati Nella zona dell'ostello Della gioventù Gli altri due invece In località Sant'Anna Sempre sullo stesso versante Circostanza Che lascia intendere Che la matrice Ancora una volta È dolosa Si chiamava Nuccio Ninfa Di 57 anni Mamma di 4 figli La sfortunata donna Che ieri Mentre faceva la doccia Nella sua abitazione Di Tre Fontane Al momento in cui Proprio era sotto la doccia Ha scoppiato Un piccolo scaldabagno La cui corrente Ha investito la donna Attraverso il manico Della doccia In alluminio La scarica mortale Ha investito la donna E sono risultati Inutili I soccorsi Per tentare di salvarla E ancora Cronaca Le urla Di una madre Con in braccio Una bambina Di 13 mesi Che stava soffocando Per un'istruzione Da cibo Hanno fatto scattare In una operatrice Del 118 Libera dal servizio Adriana Ferrara L'istinto Della soccorritrice Così La soccorritrice Vista la scena drammatica Con la piccola Che non respirava Subito prese in mano La situazione Praticando le manovre Di disostruzione Facendole sputare Il pezzetto di sottiletta Che la stava soffocando La storia Leto fine È avvenuta Ad Alcamo E si è trattato Di un vero E proprio Miracolo Resto in servizio La nostra redazione Di Palermo La Sicilia Ha perso 380 milioni Di euro Di fondi europei La Sicilia Ha perso 380 milioni Di euro Di fondi europei Ma di chi È la colpa Per tutti questi soldi Che sono andati in fumo Non tutti Ma alcuni Dei dirigenti Dei super burocrati E dei consulenti Che hanno gravitato Intorno alla regione siciliana Negli anni 2000 Sono figli Della stagione Delle raccomandazioni E della lottizzazione Del potere E sono soprattutto loro Ad aver causato Un danno Di più di 700 miliardi Di vecchie lire Soldi Che avremmo potuto Investire in Sicilia Se i nostri progetti Fossero stati In regola con i tempi I modi Le voci di spesa Le qualifiche E le procedure d'appalto Ebbene Piuttosto che ululare E sbraitare genericamente Contro la corruzione E gli ostacoli Alla meritocrazia Ci riserviamo Forse in maniera originale E provocatoria Solo questo piccolo appunto Verso coloro I quali Erano stati messi In posizione Di responsabilità Per ideare E formalizzare Piani di spesa Corretti Dei fondi europei Egregi signori Dottori Professori Dirigenti Capi dipartimento Consulenti Lì Vi avevano piazzati Per raccomandazioni Clientele varie E non eravate capaci E va bene Ma dopo il miracolo Della chiamata Del concorso superato Della promozione E dell'incarico Conferito Almeno Non vi poteva passare Per l'anticamera Del cervello L'idea di studiare Di imparare qualcosa E di gratificare Voi stessi I vostri benefattori I santi Allarsi A Palazzo d'Orlean E la vostra fortuna Rendendovi operativi E presentando Infine Qualche progetto In regola Che ci consentisse Di spendere Questi fondi europei E' capitato Capita E capiterà Abbastanza prima Non studia Non studia nemmeno poi In Sicilia Dopo questa perdita Di 380 milioni di euro La colpa Non diamola solo Agli onorevoli Ricordiamoci Di che pasta Sono fatti pure Una buona parte Dei loro miracolati E si è svolta ieri La terza seduta Del neoconsiglio comunale Sono stati affrontati E approvati Tutti i punti All'ordine del giorno Anche se due Sono state le questioni Che hanno tenuto Banco Con possibili sviluppi Politici Nei prossimi giorni Riguardo alla richiesta Della dunanza segreta In corso del consiglio comunale Da parte del consigliere Randazzo In base all'articolo 47 Del regolamento E alcune polemiche Sull'ospedale a Belaiello Ovviamente nei prossimi giorni Vi terremo informati Sugli sviluppi E si è svolta Nei giorni scorsi Una riunione Tenuta dalla CNA Di Mazzara del Vallo Presso l'Antemar Su ecobonus Per il recupero edilizio E infatti Nel corso della riunione Si è statuito Che passa da ecobonus La ripresa economica E occupazionale E il recupero Del patrimonio edilizio Esistente Ormai faticente Mettendo in campo Una piattaforma Su cui cooperano Diversi attori E soggetti Interessati Con grandi benefici Per ognuno di loro Soddisfazione È stata espressa Da Nicola Giacalone Al termine della riunione Che ha ribadito Che si susseguiranno Altri incontri Al fine di contribuire Al miglioramento Dell'occupazione E al recupero edilizio E sono arrivati Fino al tardo Pomeriggio di ieri Tutte e 24 Le imbarcazioni Che partecipano Neur Africa Cup 2019 La veleggiata Che unisce Le coste di Mazzara del Valle Jasmine Amamet Quest'oggi Visita degli equipaggi Al parco Di Selinunte Cavedicus Che ricordiamo Che è ente patrocinante Della manifestazione Insieme all'ambasciata D'Italia Tunisi E le città di Mazzara del Vallo E Campobello di Mazzara Mentre questa sera Dalle 20 a 30 Presso la sede La Lega Navale Che con Adina Ha organizzato La manifestazione In collaborazione Con le strade Del vino e dei sapori Ci sarà proprio La degustazione Di alcuni prodotti Tipici siciliani Che verranno offerti Dall'associazione Strade del vino E dei sapori A tutti gli equipaggi E cambiamo argomento Wine Up Expo Torna a Marsala Dal 7 al 10 novembre Ha preso il via Da ieri L'ufficialità Dell'edizione 2019 Di Wine Up Expo Dopo una fortunata tappa Tenutasi nel 2018 A Castiglione di Sicilia Sull'Etna Torna a Marsala Quello che si prospetta Essere una vera Eccellenza Nel settore Degli eventi Rivolte al turismo Eno gastronomico Ed all'enogastronomia Siciliana tutta Tante le novità Per l'edizione 2019 A partire dalla sede Villa favorita Stupenda location Marsalese Da ospitare La Kermesse Eno culinaria Il team Wine Up Cresce e si arricchisce Di grandi professionalità E competenze Agli storici Massimo Picciotto E Paolo Austero Si aggiungono Luigi Salvo Nel ruolo di direttore Del concorso Del concorso enologico Luigi sicuramente Il massimo esponente Siciliano Della conoscenza E divulgazione A livello mondiale Dei vini di Sicilia Infatti è un sommelier Ice E giornalista Eno gastronomico E sarà colui Che saprà dare Internazionalità Al concorso enologico Venere Callipiga Al fianco di Paolo Austero Nella gestione tecnica Del concorso culinario La Medusa Giovanni Porretto Chef palermitano Delegato per la Sicilia Dell'associazione Euro Talks E sarà il coordinatore Delle giurie culinarie Giuseppe Ultaggio Dell'omonimo agriturismo Avrà il compito Di gestire Il comparto Ricettivo turistico Della manifestazione Organizzando altresì Un impegnativo soggiorno Per 20 tour operator Ospiti della manifestazione Cocò Giacalone Bravissimo scenografo siciliano Sarà il gran cerimoniere Della manifestazione Gestendo insieme All'artista artigiano Leo Genna Ed Al curatore Di importanti opere d'arte Andrea Maggio Tutte le scenografie Di Villa Favorita Ospite d'onore Il tristellato Michelin Chico Cerea Del ristorante Da Vittorio Considerato fra i migliori 50 chef al mondo Il concorso culinario La Medusa Per l'edizione 2019 Vedrà in gara Ben 36 chef Provinienti da tutta la Sicilia E a giudicare i piatti Sarà una giuria Di giornalisti Eno gastronomici Di fama internazionale Ed una giuria tecnica Con gli chef stellati L'appuntamento Con l'informazione Di Teleotto Termina qui Io non posso che Augurarvi Un buon weekend Di mare Vista anche Le temperature Davvero africane Che per ora Invadono la nostra terra L'appuntamento Torna con L'informazione Di Teleotto Lunedì alle 14 E io vi lascio Con la musica Del DJ internazionale Carl Cox Che si esibirà A Selinunte Il DJ internazionale Carl Cox Sbarca nella terra Di Matteo Messina Denaro È quanto emerge Dal comunicato stampa Dell'azienda palermitano Unlocked Che si occupa Della direzione artistica Nella propria pagina Facebook L'azienda Si definisce Promulgatrice Di musica E tendenze internazionali Unlocked È molto di più Di un party Unlocked È uno stile di vita Una scelta non casuale Si legge nella nota Dell'azienda Perché quel lembo di terra È storicamente considerato Roccaforte Del boss Latitante Matteo Messina Denaro È tutto definito Quindi per l'evento Che si svolgerà Al parco archeologico Di Selinunte Il prossimo 17 di agosto Un evento Nato all'interno Del progetto Musica e legalità Ideato otto anni fa Da Valeria Grasso La testimonia di giustizia Che dopo le sue denunce E la sua lotta Alla mafia Oggi vive sotto scorta I giovani saranno Al centro di tutto Giovani che lottano Contro le dipendenze Scrive Unlocked Ragazzi contro ogni tipo Di mafia In attesa di lanciare La proposta Per la riqualificazione Sociale dei beni confiscati Promossa dal Ministero Della Salute Che anche per questo Appuntamento Darà il suo patrocinio Durante la tappa Di musica e legalità A Roma Ma Castelvetrano Non è soltanto La città dove si nasconderebbe Il capo mafia latitante E allora L'evento Musica e legalità Sarà anche un'occasione Per riscoprire Il sito di origini greche Più ampio E imponente d'Europa D'altra parte Come scrive la Unlocked L'idea di portarlo Nel luogo simbolo Della Grecia siciliana Nasce con L'ex direttore Del parco archeologico Di Selenunte Enrico Caruso Oggi direttore Del parco archeologico Di Lilibeo E prosegue Grazie all'impegno Del neonominato Bernardo Agro Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.